Siamo arrivati, non si può girare, non si può collare sulla propria posizione, ma non si può uscire dalla propria linea. Siamo arrivati, non si può girare, non si può girare. Siamo arrivati, non si può girare, non si può girare, non si può girare, non si può girare. Siamo arrivati, non si può girare, non si può girare, non si può girare. Siamo arrivati, non si può girare, non si può girare, non si può girare, non si può girare. Finisce qui, con il punteggio di 5 a 2, linea Torino. Siamo arrivati, non si può girare, non si può girare. Siamo arrivati, non si può girare. Siamo arrivati, non si può girare. Siamo arrivati.